Alla base dei laboratori che io faccio c'è il teatro sociale. Il teatro sociale è una maniera di fare i laboratori teatrali, di condurre i laboratori teatrali, dove si dice che il processo è molto più importante del risultato. Cioè a noi interessa poco fare il famoso spettacolo di fine anno o di fine corso, ci interessa che escano dei contenuti di valore dalle persone, ci interessa lavorare con i contenuti delle persone, piuttosto che io portare qualcosa di già fatto e appiccicarcelo un po' addosso. Quando i contenuti escono dalle persone che partecipano al laboratorio, sono molto più forti, molto più veri, perché chi porta qualcosa mette già un'intenzione, ha già un'immagine di quella cosa, ha a volte anche un vissuto. E anche per chi partecipa al laboratorio e si relaziona con queste cose, è molto più facile venirne in contatto, perché c'è la vita lì dentro, perché è vissuta quella cosa. Per cui in un laboratorio di teatro sociale si fanno delle cose molto molto simili a quelle che si fanno in un laboratorio di recitazione, però la recitazione non è il nostro focus, non è il mio, non mi interessa, non lo so fare, non la so insegnare quella cosa lì. Quello che mi interessa è che le persone tessano dei legami tra di loro, che abbiano la possibilità di mettersi in gioco, di osservarsi, di tirare fuori delle parti di sé che generalmente non si sentono nella possibilità di poter tirare fuori nella vita normale. Per questo dico sempre che il laboratorio è il luogo protetto dove poter sperimentare. poi il lavoro vero si fa fuori.